Mi scusi signore, penso sia giunto il momento di insegnare ad un amici come si tira Non riesco a credere alle mie orecchie, sul serio vuole insegnarmi a tirare Ho il suo consenso? Ma siamo proprio sicuri che un altro non abbia preso il suo posto? Sarà proprio lui? Ma... Casi è lui, adesso lo riconosco Allora cosa mi risponde? Allora... Allora...